Il punto mi sembra esattamente quello che ha citato poco fa il direttore Sallusti, cioè noi oggi abbiamo 500 casi che sono 500 morti, ormai l'unica cosa che abbiamo indemizzato è abituarci a questo bollettino quotidiano, però non si può indemizzare la pandemia quando in una settimana muoiono, quanti ne muoiono in un anno per l'influenza, perché le cifre poi bene o male sono queste. E allora nella libera repubblica di Gibilisco uno fa quello che gli pare, è la sua repubblica, il suo paese, quando ci sarà andremo tutti nella libera repubblica di Gibilisco, ma fino a quando siamo nella repubblica italiana, ma in qualunque contesto civile dove ci dobbiamo relazionare con gli altri e dove dobbiamo entrare in uno studio televisivo, dobbiamo andare in classe con un bambino che magari non si può vaccinare perché lui si ha dei problemi. Allora perché la libera repubblica di Gibilisco deve negare il diritto a quel ragazzo non vaccinato e deve starsene a casa semplicemente perché c'è l'egoismo di uno. E questo è il punto che è tutto politico, ma non c'è altra ragione, non c'è filosofia, non c'è...